Siamo a Fitili, un piccolo paese però incastonato nella bellissima costa degli dei, ai piedi di Fitili c'è Parghelia, una cittadina turistica ricca di cultura e di bellissimo mare e a Fitili si venera San Girolamo Dottore Massimo, un grande santo traduttore della Bibbia, la Vulgata, portato qui dai padri basiliani, mentre a Parghelia, zona di mare, si festeggia la Madonna di Portosalvo nella seconda domenica di agosto. Ringrazio il nostro amico abruzzese Antonio per questa bella intervista e speriamo che il messaggio possa giungere a tutti con bellissimi esiti. San Girolamo benedica la nostra Calabria in maniera particolare coloro che sono dediti all'insegnamento e alle istituzioni pubbliche. Grazie. Calabria in maniera particolare E ora Grazie a tutti.